L'inizio del nuovo anno scolastico a Canicattì è stato segnato da un episodio di bullismo. All'interno della scuola media Gangitano, un tredicenne, è aggredito con calcio e pugno una sua compagna di classe. Il ragazzino era balzato agli onori della cronaca proprio nei giorni scorsi. Aveva rapinato un bambino romeno di 10 anni, minacciandolo con un coltello. La ragazzina, raggiunta da un calcio allo stomaco, ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Tutto è avvenuto all'interno dei bagni della scuola dove la vittima aveva tentato di rifugiarsi dopo che con il suo compagno aveva avuto un accesso di verbi all'interno dell'aula. La professoressa in quel momento si era allontanata per segnalare alla dirigente scolastica Lalite. A quel punto il tredicenne è iniziato ad inveire con maggiori forze nei confronti della sua compagna che per paura di essere aggredita si era rifugiata all'interno del bagno delle donne. In perterrito il ragazzino conosciuto come il baby rapinatore l'ha inseguita e le ha sferrato un calcio all'addome. Il provvedimento disciplinare adottato dalla scuola ieri mattina nei confronti del protagonista di questa aggressione è stato l'allontanamento dalle elezioni. Nei giorni scorsi la polizia, dopo averlo indicato come l'autore della rapina e i danni del bimbo romeno, aveva fatto partire una segnalazione alla procura dei minori di Palermo e contestualmente aveva avvertito i servizi sociali del comune affinché si occupano di questo caso delicato. Adesso la ragazzina aggredita sta bene, questa mattina è rientrata in classe.